Una piattaforma per la partecipazione della gente lucana, un patto di fine mandato e la collaborazione con la Puglia, sfruttando il filo diretto con il presidente Emiliano, sostenuto con successo alle recenti primarie del PD. Il consigliere regionale Dem Piero Lacorazza parla di lavoro e di concretezza dell'azione politica svolta sino ad ora, sulla quale sono state poste le basi per la costruzione del suo fronte democratico e con intorno la fetta di classe dirigente antirenziana ha convocato la stampa per illustrare quelli che saranno i prossimi appuntamenti, a partire da quello che porterà Emiliano a Potenza il 14 giugno prossimo. Noi abbiamo l'interesse a consolidare questo rapporto con Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, perché pensiamo che possa essere un servizio, un lavoro nell'interesse dei lucani, perché con la Puglia c'è una relazione che riguarda le risorse naturali, l'acqua, per loro è una necessità, per noi è solidarietà, ma per entrambi deve essere più opportunità. C'è un punto che riguarda il petrolio, Vigiano e Corletto sono legati a Taranto, c'è una vicenda che riguarda il turismo, Matera 2019, ma la Basilicata raccoglie da un turismo pugliese buone opportunità. Io credo che nell'ambito del mezzogiorno noi abbiamo bisogno anche del peso di una importante regione come la Puglia. Iniziative che partono dal basso e che puntano al coinvolgimento della comunità lucana per la risoluzione di tematiche importanti, un risultato è stato raggiunto, ha detto la Corazza, quello che ha impedito gli imporsi del centralismo dello Stato. E che le battaglie con Michele Emiliano ci sono servite a far cambiare alcune scelte anche della maggioranza del nostro partito dell'Italia. Ricorderete che nel 2014 c'era lo sblocco Italia e con l'iniziativa delle regioni e con il peso del Presidente anche Emiliano l'abbiamo cambiato. Abbiamo cambiato il rapporto tra centro e periferia che voleva essere invertito con la riforma del titolo Quindo perché la riforma costituzionale è passata. Ad oggi ci troviamo con una legge elettorale, quella che c'è oggi uscita dalla Corte Costituzionale, con la prevalenza delle preferenze. Quindi significa più il rapporto tra cittadini e elettori. Abbiamo cambiato l'asse delle politiche renziane. In più sulla Basilicata quello che proporremo oggi è un patto di fine legislatura. Manca un anno e qualche mese alla fine ordinaria della legislatura e noi proporremo alcuni punti sui quali il PD, il centrosinistra e tutto il Consiglio regionale, le forze sociali ed economiche dobbiamo riscutere. In primis il lavoro per i giovani ma anche e soprattutto per coloro che sono ormai, hanno un'età avanzata per entrare nel mercato del lavoro e sono troppo, come dire, giovani per andare in pensione. Abbiamo individuato anche le risorse, sono circa 20 milioni di euro più altre risorse si possono aggiungere dal FES. Io penso che la priorità del lavoro sia quella su cui mettere tutta l'energia nei prossimi mesi. Inmancabile un riferimento ai prossimi appuntamenti elettorali rispetto ai quali la corazza parla di un PD che non c'è. Incapace di proporsi in termini programmatici, già a cominciare dalle prossime amministrative ma decisamente preso da processi di posizionamento, non ultimi quelli che vedrebbero il presidente Pittella proiettato verso la capitale, la corazza si è detto critico e dubbioso circa la recente mossa condivisa nel corso di una recente riunione di maggioranza alla quale però l'ex presidente del Consiglio regionale decide non aver preso parte, circa la volontà di mettere mano allo statuto regionale con l'inserimento di una norma presa in prestito dall'Abruzzo che garantisca in caso di dimissioni del presidente la conclusione naturale della legislatura con l'affidamento della guida del governo regionale al vicepresidente di Giunta. Io credo che questa non sia la priorità dei Lucani, questa non sia la priorità dei Lucani. Ho qualche dubbio che si possano cambiare le regole statutarie in prossimità di un voto, anche qui c'è un punto interrogativo, nessuna certezza che la legislatura nazionale si concluda. Sto stare molto attento in un momento in cui la regione vive una difficoltà a far percepire che si modifica una regola nell'interesse del ceto politico e non di una comunità. Grazie. 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 Grazie.